Sono davvero soddisfatto dell'invito che mi ha fatto l'architetto Lamedola, di cui sono stato segretario in quest'ordine per quasi 16 anni, per cui è una materia questa dell'aggiornamento professionale dei giovani colleghi che mi sta particolarmente a cuore. Stiamo iniziando, come diceva poco fa il mio collega, a trattare i temi dell'edilizia privata, sostanzialmente dell'urbanistica, perché è un tema abbastanza pregnante che riguarda l'intero territorio comunale e non solo. Vedremo in questo escursus, e spero di farlo al meglio, qual è stata l'evoluzione normativa partendo da lì e cercare di trasfondere proprio nei giovani colleghi quelle esperienze che per noi, ahimè che siamo ancora più anziani, diciamo, sono state frutto di anni di studi, di sacrifici e di interpretazioni di normative che si sono sosseguite. Raggiungendo questo obiettivo credo che possiamo dare davvero un buon servizio ai giovani colleghi che si possono trovare ad affrontare delle tematiche che oggi sono abbastanza complesse. L'ultima complessità ci vede dalla impugnativa che ha fatto la Corte Costituzionale su alcuni articoli dell'ultima legge, tra l'altro di quest'anno, dell'agosto di quest'anno, la 23, sull'edilizia privata, che ci vede adesso un po' contrastati proprio nell'applicazione della norma stessa. Spero di essere abbastanza chiaro nella mia esposizione, non parlerei di lezioni ai colleghi, perché siamo tutti colleghi, tutti iscritti all'albo, per cui mi può fare solamente piacere instaurare un ragionamento e un dialogo con loro, cercando al meglio ovviamente di lenire, scemare i tuppi e le contraddizioni che ci sono almeno su questa materia. Certo, motivo di soddisfazione, permettetemi pure di dire anche motivo di orgoglio per tutto il Consiglio dell'Ordine, il Consiglio anche della Fondazione Archivettica del Mediterraneo, per le tante iniziative e i tanti progetti che stiamo portando avanti già a pochi mesi al nostro insediamento. Oggi diamo via al corso di formazione professionale, di avvio alla professione, una gran bella opportunità per i giovani colleghi che si apprestano alla libera professione. Non potevamo non partire ovviamente dall'aspetto urbanistico, a tutte quelle che sono le normative vigenti che regolano l'edilizia privata. Sarà di certo un momento di confronto e anche di grossa opportunità per i giovani colleghi. Gli aspetti verranno curati da una presenza di eccezione che è l'architetto Gaetano Greco, dirigente del settore urbanistico e dell'edilizia privata e da me per quella che potrebbe essere la mia esperienza da libero professionista.